Dalle 26 settembre, metà della giunta regionale di Francesco Acquaroli potrebbe lasciare Palazzo Raffaello in direzione Roma. Hanno infatti ottime chance di elezioni in Parlamento il vicepresidente regionale Mirko Carloni, l'assessore a cultura e istruzione Giorgio Alatini e l'assessore al bilancio Guido Castelli. Tre treni, in partenza da Ancona alla capitale, più un quarto, quello di Stefano Guzzi, candidato per Forza Italia, che sembra ben più difficoltoso dei sopracitati. Mezza giunta con le valigie può provocare sfasamenti sul percorso del governo regionale, che però gioca d'anticipo. A inizio settimana Acquaroli ha intensificato le consultazioni interne per farsi trovare pronto alla ripartenza regionale d'autunno. Sostituti che in gran parte paiono già individuati con due esponenti della Lega e uno di Fratelli d'Italia a avvicendare altrettanti assessori con le valigie in mano. I nomi forti sono quelli del consigliere in quota Lega Andrea Maria Antonini, al quale spetterebbero le deleghe di Carloni a sviluppo economico e agricoltura, così come nella Lega è forte il nome della dirigente regionale ai beni culturali Daniela Tisi per sostituire Giorgio Alatini. Per Fratelli d'Italia, Carlo Ciccioli sembra in pole position per diventare assessore, ereditando le deleghe di Acquaroli a Turismo e Porto, mentre Acquaroli potrebbe prendersi la delica al bilancio di Castelli. Giochi quasi fatti ma con tutte le incognite di 18 giorni di campagna elettorale che possono essere ancora molto lunghi e suscettibili di ripensamenti.